Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto a Procura, Corte dei Conti ed ANAC denunciando una sopravvalutazione del prezzo di 16 milioni di euro complessivi per le unità abitative destinate ai terremotati. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Pettinari, si parla di case e terremotati di 427 abitazioni che la Regione Abruzzo dovrà destinare ai terremotati della nostra Regione. Voi su questo avete presentato un esposto all'ANAC, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Perché? Sì, intanto un decreto legge nazionale prevede che le Regioni possano acquistare l'invenduto dai costruttori e destinarlo poi agli sfollati del sisma 2016-2017. Ecco, Regione Abruzzo ha stilato una graduatoria per l'acquisto di 427 immobili, trattasi dell'invenduto appunto, da poi destinare agli sfollati, per un costo che si aggirerebbe intorno ai 62 milioni di euro. Ma è lo stesso decreto legge nazionale che impone di compararli con le tabelle e le quotazioni dell'Agenzia delle Entrate per la valutazione della congruità dei prezzi. E noi siamo andati ad analizzare prezzo su prezzo, comparandolo con le tabelle dell'Agenzia delle Entrate relativa al Comune specifico, alle zone specifiche e sembrerebbe esserci stato una sovrastima di 16 milioni di euro rispetto appunto alle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate. Pur prendendo in considerazione gli oneri accessori, quindi spese notarie, spese di registrazione e quant'altro che possono occupare massimo 2-3 mila euro ad abitazione, verrebbe fuori comunque una sovrastima di 13-14 milioni di euro. Quindi noi abbiamo presentato, siamo stati in dovere di presentare segnalazione alla Procura della Repubblica dell'Aquila all'autorità anticorruzione, alla Corte dei Conti e soprattutto una segnalazione al Capo della Protezione Civile Nazionale chiedendo di interrompere questo ITER in autotutela, ripetere l'ITER per poter acquistare magari centinaia di abitazioni in più perché recuperando quei 13 milioni che potrebbero essere una sovrastima possiamo acquistare tanti e tanti immobili in più. Questo chiediamo e mi auguro che il Capo della Protezione Civile ascolti quella che è la nostra richiesta. Andiamo avanti. Risorse per 210 milioni di euro dalla cabina di regia di Palazzo Chigi per opere su strade provinciali e sulla ferrovia. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in una conferenza stampa in cui ha reso noti i risultati della riunione a Roma. Fondi statali ha sottolineato D'Alfonso che non peseranno un euro sui cittadini abruzzesi. Un investimento complessivo di 186 milioni di euro destinato al potenziamento della infrastruttura ferroviaria in Abruzzo è quanto annunciato dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso sottolineando come si tratti di finanziamenti statali assegnati alla Regione dalla cabina di regia dei fondi di sviluppo e coesione. Una quota pari a 75 milioni sarà utilizzata per l'ammodernamento della tratta sul Mona L'Aquila-Rieti. Altri 111 invece verranno impiegati per il raddoppio del tratto Pescara-Chieti-Manoppello a servizio dell'interporto. Dalla cabina di regia dell'FSC la Regione ha ottenuto anche lo stanziamento di 24 milioni di euro di risorse statali che saranno assegnate all'ANAS per la manutenzione straordinaria di 550 chilometri di strade provinciali che torneranno di competenza dello Stato. Abbiamo spiegato come in Abruzzo è fondamentale per esempio fare in modo che si completi l'infrastrutturazione ferroviaria tra Sul Mona, L'Aquila e Rieti circa la elettrificazione e la velocizzazione. Si raddoppia la Pescara-Chieti-Manoppello con un numero incredibile ma necessario di risorse non gravanti sulla fiscalità dei cittadini abruzzesi o sul bilancio della Regione Abruzzo. 111 milioni di euro. Questo tipo di infrastruttura che noi abbiamo fatto finanziare e che di qui a 4 mesi verrà contrattualizzata consentirà anche all'interporto di avere una dignità perché oggi è un'opera senza dignità. Perché manca l'aggancio, la connessione ferroviaria. Nel totale 210 milioni di euro per le infrastrutture ferrate e della gomma. Ed ora la cronaca, iniziamo da quella giudiziaria. Verrà sottoposto a perizia psichiatrica Francesco Marfisi, l'uomo di Ortona che lo scorso 13 aprile ha ucciso a coltellate la moglie Letizia Primiterra e l'amica di lei Laura Pezzella. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Chieti, Isabella Aglieri. Era stato il difensore dell'uomo Rocco Giancristofaro a chiedere il rito abbreviato condizionato alla perizia. Il giudice ha fissato al prossimo 6 di dicembre la data per il conferimento dell'incarico al perito che è Marilisa Amorosi. Nell'udienza di oggi si sono costituiti parte civile, genitori e figli delle vittime. Continuiamo con la cronaca con un'operazione dei carabinieri della compagnia di Giulianova che nella serata di ieri hanno arrestato per concorso in estorsione un 25enne albanese residente a Sant'Egidio alla Vibrata e un ventenne della stessa nazionalità residente ad Alba Adriatica entrambi pregiudicati e dimoranti a Giulianova. All'inizio del mese di novembre c'è stato l'incendio di una autovettura che i carabinieri ha destato sospetti. Sì, dai successivi accertamenti sono emersi altri atti di intimidazione. L'ultimo si è verificato nella giornata di ieri quando è scattato il blitz da parte dei carabinieri. Ed ora torniamo a parlare di politica, ma lo facciamo andando nel comune di Teramo. Sapete, continua la crisi politica e amministrativa del municipio. Il Partito Democratico di Teramo ha deciso di aderire alla proposta lanciata dal consigliere Gianluca Pomante di dimissioni per determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale e di conseguenza la caduta della giunta Brucchi. La firma davanti al notaio che era inizialmente prevista per oggi però non ci sarà, ma avverrà nei prossimi giorni. Ascoltiamo Manola Di Pasquale. L'amministrazione Brucchi è oramai da molto tempo che è incapace di esprimere una progettualità, soprattutto di governare una città che ha grandi problemi e soprattutto quello di ritrovare una maggioranza. Il sindaco non trova la forza di dimettersi da questa posizione come dovrebbe essere in un senso di rispetto verso la città. Credo che siano i consiglieri comunali a questo punto che debbano mettere fine a questa amministrazione. Il Partito Democratico, con senso di responsabilità, ha deciso in maniera unitaria di tornare al voto perché c'è bisogno di dare una risposta ai problemi che la CTA e quindi una programmazione e una governerabilità. Invitiamo tutti a fare questa riflessione e siamo disponibili non solo a fare le dimissioni ultra di medium, quindi davanti ad un pubblico ufficiale, ma anche ad aderire a forme di spiducia o mozioni pur di giungere alla conclusione di un percorso che ormai è già finito dal tempo, a testare la fine di un'amministrazione. Ora ci spostiamo all'Aquila per la pagina sindacale con i rappresentanti dei lavoratori che sono stati tenuti fuori dall'Accor Fenix. La Will denuncia così un atteggiamento che è cambiato nel corso del tempo da parte dell'azienda, non si conosce il piano industriale, bene le prime assunzioni dicono, ma vogliamo vederci chiaro il servizio della redazione aquilana. I sindacati tenuti fuori dall'azienda, parliamo dell'Accor Fenix e la denuncia arriva dalla Will. L'azienda che di recente ha aperto le sue porte alla stampa per officina l'Aquila ha una storia lunga e travagliata, hanno ricordato i sindacalisti. Un progetto partito nel marzo 2016, quando ci siamo accorti, hanno detto e presenti, che il gruppo dirigenziale non era in grado di portare avanti una buona politica industriale. Poi le note vicende giudiziarie che ci hanno dato ragione, non conosciamo il piano industriale. La Will aveva chiesto un cambiamento, culminato con il passo indietro dell'ingegner Ravi e la nomina di Giuseppe Carrella alla presidenza. Quello che non ci convince, dunque, ci hanno precisato di noi siamo felicissimi nell'assunzione perché questo volevamo, anzi ancora di più. Il problema è che questa azienda ha preso un atteggiamento ultimamente da luglio dove il sindacato, non riusciamo a capire il motivo, non lo convoca, non ci vuole parlare, abbiamo richiesto l'incontro, quando leggiamo sui giornali dichiarazione da parte del dottor Bardarelli l'inizio della produzione, stiamo facendo quello, quell'altro, entrano giornalisti, entrano sindaci, ex sindaci, entra tutti a vedere noi, non sappiamo neanche i macchinari perché noi non ci hanno mai convocati. E questa è una cosa che dispiace perché il sindacato, il mio sindacato in modo particolare, ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti di questo progetto perché continua a dire l'unico progetto che avevamo, vive a Dio, anzi questa azienda, devo dire la verità, è una delle poche aziende che riprende operai di una certa età perché altrimenti sarebbero veramente carne da macello perché non li vuole nessuno, però ultimamente ha preso un atteggiamento che noi non gli dobbiamo spiegare qual è il motivo perché noi ci tengono fuori da tutto quello che è la vita e il futuro di questa azienda. 30 assunzioni e ci siamo, dicono i sindacati, ne siamo ben contenti anche perché si tratta non tutti, di lavoratori ripresi dall'ex polo elettronico ma anche sulle cifre al regime completo c'è un po' di confusione e ancora si chiedono i sindacati, lì dentro chi comanda veramente? L'ultimo incontro che abbiamo fatto è che il dottor Bardarelli parlava di 80 persone, un altro incontro l'ingegner Ravi parlava di 60, quindi diciamo un po' ballerino, ma là bisogna capire se le cose vanno, se le cose vanno bene, secondo me c'è lo spazio per l'ex del polo elettrone e anche di nuovo assunzione, perciò siamo preoccupati perché noi vogliamo che le cose vadano bene, noi non possiamo permetterci un altro fallimento perché sarebbe, questa è la nostra preoccupazione, che noi non vogliamo assolutamente un altro fallimento, quindi vogliamo sapere, vogliamo capire, perché questo è il nostro ruolo, in modo tale che non si possa ripetere quello che è successo l'anno scorso, non deve essere, anche capire chi comanda, perché là c'è un problema, quello che noi ci arriva da dentro, che non si capisce chi comanda, se l'ingegner Ravi effettivamente ha fatto un bassendiero, se il nuovo presidente che ci sta annunciato comanda, questo è un problema secondo noi. Adesso torniamo a Pescara per occuparci del porto e dei lavori per il taglio della diga foranea, la seduta odierna della Commissione Consigliare Grandi Infrastrutture del Comune di Pescara, preseduta dal consigliere Carlo Gaspari, ha visto oggi la presenza del presidente della Regione D'Alfonso che ha illustrato appunto i lavori che interesseranno la diga foranea e ha poi parlato del futuro del piano regolatore portuale. Con il presidente della Commissione Grandi Infrastrutture del Comune di Pescara parliamo di questa commissione oggi con il presidente D'Alfonso qui a Palazzo di Città per parlare dei lavori che inizieranno a breve per quanto riguarda il taglio della diga foranea, i lavori che riguardano il piano regolatore portuale, Gaspari. Sì, certamente oggi è un'occasione particolare, speciale per noi, per il Comune e per questa commissione che affronterà direttamente con le parole del presidente quali sono i tempi, i finanziamenti e le opere che verranno realizzate man mano dentro al porto di Pescara per risolvere l'annosa questione dell'interramento e vedremo di approfondire anche come si svolgeranno i lavori nei tempi e quali saranno, se ci saranno ancora, modifiche al piano regolatore portuale. Lavori comunque importanti che si attendevano da anni al porto di Pescara? Certamente sì, io devo dire che questa amministrazione regionale ci ha coinvolti e ci ha spinto a prendere delle decisioni anche sollecitando un po' le problematiche relative alla burocrazia. Lo abbiamo fatto noi, l'ha fatta l'amministrazione, finalmente si riesce ad entrare in acqua in porto e vediamo se riusciamo a breve tempo a risolvere. Sono previsti nove mesi, intanto per prima questa prima fase io credo che ci saranno dall'inizio buone prospettive. Proseguiamo con il nostro giornale. Formazione dei volontari e del personale amministrativo locale che mira a formare nuclei operativi in grado di intervenire prontamente in caso di inquinamento da idrocarburi lungo le coste. Questo è l'obiettivo del progetto Neptune, seconda edizione, organizzato e promosso dal Dipartimento di Protezione Civile d'Alega Ambiente, presentato oggi a Pescara. Un corso per formare volontari di protezione civile da impiegare in caso di emergenze, di inquinamento delle coste, soprattutto per lo sversamento di idrocarburio. Un corso importante. Un modo per rispondere in maniera pratica e attuale a dei rischi potenziali che dall'ambiente marino possono provenire, come il tema degli sversamenti a mare derivanti dall'attività pretorrifere, sia se si tratti di estazioni o di semplice trasporto, tema che fra l'altro interessa massimamente l'Adriatico. Affronteremo anche un altro delle tematiche che a noi sta molto a cuore, che è direttamente connesso al tema della tutela dei tratti costieri da quegli agenti esterni che vengono indotti dalle attività o umane o invece climatiche, come quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, ovvero il tema dei rifiuti spiaggiati derivanti da eventi atmosferici cosiddetti eccezionali ed è un tema su cui personalmente sono presente e sto sollecitando il governo a legiferare. In tal senso noi ci apprestiamo a farlo con una proposta di legge regionale specifica, ma è chiaro che non possono queste città sopportare il peso dello sbalchimento di questi rifiuti quando laddove loro stesse non sono state a determinarle ma li accolgono soltanto. È importante fare sinergia perché nel momento in cui il prodotto è inquinante, pensiamo fondamentalmente all'idrocarbura, abbiamo tutti sotto gli occhi le immagini di disastri ambientali che si sono verificati in Galizia con l'Erica o in Alaska con l'Exxon Valdez, è un problema serio. Sta a significare che non si è riusciti con i mezzi di cui disponiamo, perché ricordiamoci che il coordinamento delle operazioni volte a confinare in mare il prodotto sversato per esempio da una piattaforma petrolifera o ancor più probabilmente da una nave, è un compito che spetta al corpo delle capitanie di Porto e Guardia Costiera sulla base di pianificazione fatta a livello compartimentare. Nel momento in cui il prodotto dovesse arrivare sulla spiaggia è chiaro che si deve mettere in moto un meccanismo che coinvolge le istituzioni e coinvolge il mondo dell'associazionismo. Continuiamo ancora il nostro giornale, voltiamo pagina e torniamo a Teramo. Cultura della legalità e anche valutazione dei danni che la criminalità micro e macro apporta al sistema produttivo ed economico. Sono le tematiche affrontate nella giornata della legalità organizzata dalla Confcommercio Nazionale e in questo caso dalla Confcommercio di Teramo. Il prefetto di Teramo invita soprattutto i giovani a collaborare maggiormente con le forze dell'ordine. Vediamo. Contro ogni forma di legalità e contro tutti i fenomeni criminali. E' questo il senso della giornata di mobilitazione nazionale Legalità Mi Piace che ha impegnato l'intero sistema associativo della Confcommercio con iniziative territoriali e locali di vario genere in ogni parte d'Italia. Tutti i giorni tante imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti sono vittime di racket, usura, furti, rapine, taccheggio e tangenti fenomeni che frenano la libertà di impresa e la crescita. L'illegalità per questo rappresenta un grave danno per l'economia reale del paese e se ne è discusso in un incontro organizzato dalla Confcommercio di Teramo. I giovani devono capire che la cultura della legalità aiuta la società a ritrovare la possibilità di vivere una pacifica convivenza civile, di vivere in situazione di tranquillità. Non c'è forza dell'ordine che tenga se la legalità e il rispetto della legalità non cominciano dai cittadini, i cittadini che si devono fare parte attiva e che devono effettuare le scelte consapevoli, che devono supportare anche l'attività delle forze dell'ordine segnalando, vigilando e dunque effettuando quella che si chiama la sicurezza partecipata. Una pista ciclabile in pieno centro a Pescara, questo è uno degli interventi più importanti previsti per la riqualificazione di Viale Muzzi, illustrato questa mattina a Palazzo di Città dall'assessore Stefano Civitarese, che ascoltiamo. Nasce in pieno centro a Pescara, in Viale Muzzi, la nuova pista ciclabile, assessore Civitarese, questa mattina avete presentato questo importante progetto. Un tratto in realtà non chissà quanto lungo, che però è molto importante nell'ambito della politica che stiamo portando avanti perché si avvia una riconnessione tra le piste ciclabili esistenti fatte sia in passato sia che stiamo facendo in questi mesi, in questi anni e questo è un fatto secondo noi decisivo per far capire come la possibilità per i ciclisti di attraversare il centro in sicurezza, proprio dove sono le parti vitali della città, il centro commerciale naturale per esempio è una cosa che porterà molti benefici proprio al commercio. Molti studi che oggi abbiamo presentato a livello europeo, anche italiano, ma quelli europei sono più risalenti, quindi dicono di più perché sono studi che risalgono anche a 10-15 anni fa, mostrano come proprio l'uso delle strade, dei pedoni, delle biciclette, il trasporto pubblico favorisce proprio il commercio di vicinato. I lavori cominciano la prossima settimana, c'è un termine per la conclusione di circa 3 mesi, ma l'impresa ci sembra un'impresa molto seria ed è disposta comunque a seguire in modo corretto eventuali direttive per diminuire al minimo eventuali disagi che però non ci saranno, il marcio a piede sarà comunque libero, il traffico non sarà mai limitato in nessuno dei due sensi, salvo qualche restringimento che l'impresa è autorizzata da fare per ragioni appunto di lavori e quindi direi che insomma mi pare che non ci saranno problemi. Ed ora siamo alla pagina dedicata alla cultura, partiamo dal Teatro Stabile d'Abruzzo che è un nuovo direttore ed è il cantotore Simone Cristicchi, una nomina che in città divide, un personaggio comunque poliedrico che conosce bene la realtà aquilana. Onorato, ha dichiarato Cristicchi per questo nuovo importante incarico. È Simone Cristicchi, cantatore, il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, il nuovo direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente su proposta del Vicepresidente Rita Centofanti, rappresentante del Comune dell'Aquila, d'intesa con la Presidente Natalie Dompe. Il nome è stato scelto a seguito di una procedura esplorativa che ha previsto un avviso pubblico per manifestazioni di interesse al quale hanno risposto ben 72 candidati. Da quanto si è preso ci sarebbe anche l'ex direttore Alessandro Preziosi che aveva presentato il curriculum che stavolta però non è stato scelto. Preziosi tra l'altro collaborerà ancora con lo stabile come attore perché è in cartellone come protagonista di Vincent Van Gogh. La scelta è caduta su Cristicchi, un talento poliedrico che ha saputo entusiasmare il pubblico e raccogliere premi di prestigio sia nella scena musicale ma non solo, anche nel teatro o di prosa, autore che ama sperimentare e mettersi in gioco. Tra l'altro per lui non è la prima volta all'Aquila, portò qui anni fa un suo monologo. Cristicchi infatti ha numerosi punti di contatto con la città dell'Aquila. Nel pezzo l'Italia di Piero con il quale ha vinto Sanremo nel 2007 c'è un verso che parla addirittura del famoso bidello aquilano Mario Magnotta. E poi ancora in un'altra canzone, i terremotati ancora in vacanza, riferendosi alle dichiarazioni dell'allora premier Silvio Berlusconi, insomma, ha parlato già e conosce bene la situazione dell'Aquila, essendo stato in città dopo il terremoto tra l'altro. Onorato, spero di essere degno, così ha dichiarato invece Simone Cristicchi. Sono orgoglioso di portare la mia esperienza teatrale e l'idea migliore affinché il teatro possa essere il luogo deputato a ritrovarsi come comunità, la casa di tutti. Sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Proseguiamo, la Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo. Questa mattina in una conferenza stampa è stato tracciato il bilancio dei primi 12 mesi di gestione della struttura da parte della Regione Abruzzo. Le priorità di quest'anno, dal 1 gennaio 2017, dove il decreto del Rio ha consegnato alla Regione l'ex biblioteca provinciale, sono molto importanti, innanzitutto perché abbiamo mantenuto gli standard di quelli che erano gli anni precedenti. Questa mattina siamo qui a Teramo perché riteniamo che anche questa città meriti attenzione nel centro, nell'habitat più naturale di quello della cultura che è l'Adelfico. riteniamo che sia stato fatto uno sforzo molto grande e importante da parte della Regione Abruzzo. Vorrei dire che anche sul fatto del personale abbiamo coinvolto qui, sia l'APC che era a Teramo, che era anche a Teramo, il personale abbiamo confluito tutto all'Adelfico anche per dare continuità sui servizi offerti prima. Innanzitutto poi abbiamo messo anche il contributo aumentato questo anno per far sì che l'Emeroteca, che si possono acquistare libri, la Delfico di Teramo spende circa 15 mila Euro per rinnovo dei libri e altrettanto credo, se non ricordo male, anche per la questione dei libri da dare. Inoltre c'è il sistema MLOL che è un sistema digitalizzato per quanto riguarda la prestito interbibliotecario con i cittadini o mettere in rete tutto un sistema di rete bibliotecaria brussese, anche perché speriamo anche di creare con una legge apposita questa biblioteca regionale brussese che non si dita più nelle questioni locali o provinciali. Credo che abbia bisogno di un sistema regionale poiché questa è ormai una competenza della Regione Abruzzo. Adesso apriamo la pagina dello sport. Il Pescara continua la preparazione in vista della gara di sabato prossimo in casa dello Spezia. Nel pomeriggio i biancazzurri sosterranno un amichevole ad Ortona contro la locale formazione che milita nel campionato di promozione. Biglietti da 5 Euro con l'incasso che sarà devoluto a due istituti scolastici ortonesi. In questa amichevole Zeman darà spazio ai giocatori meno impiegati, tanto da non aver convocato tutti i giocatori messi in campo domenica scorsa contro la Provercelli con l'eccezione di Crescenzi. È molto probabile che Zeman confermi la stessa squadra per il match del picco. Nell'amichevole di Ortona mancheranno anche gli infortunati Proietti, Bovo e Balzano che continuano a lavorare in forma differenziata e che salteranno la trasferta ligure. Subito dopo il match la squadra e lo staff tecnico parteciperanno all'inaugurazione del nuovo store del Pescara ad Ortona in via Monte Maiella. Scendiamo di categoria adesso, andiamo in Serie C alle 16.30, il Teramo sarà in campo allo stadio Enrico Rocchi per sfidare la vita erbese degli ex Di Paolo Antonio e Cenciarelli nella gara secca che darà accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Questa mattina il vice allenatore Zichella ha diretto l'allenamento per i giocatori che non sono stati convocati per questa gara. Lo stesso Zichella ieri sera ha partecipato alla trasmissione ProTermo parlando tra le altre cose del modulo e del suo rapporto con l'allenatore Asta. Siamo stati avversari in C, io allenavo il Val d'Aosta in C e lui il Monza in C. Poi abbiamo fatto domanda, ma senza saperlo, insieme al Master, al UEFA Pro, il massimo patentino che un allenatore possa aspirare. Ci hanno preso tutti e due, eravamo in stanza insieme e da lì in poi abbiamo deciso di metterci insieme, se volevamo provare l'avventura insieme. Io il secondo l'avevo mai fatto, non sapevo neanche come farlo, però mi diventa facile perché non faccio mai una cosa che mi dà fastidio e il mio secondo mi faceva a me, quindi riesco a farlo anche abbastanza bene. Noi abbiamo iniziato in ritiro a giocare con il 4-3-2-1, insomma le cose andavano anche abbastanza bene, poi abbiamo fatto 20-25 minuti a Pordenone dove veramente non so se l'abbiamo anche noi aiutati loro, ma sembravano veramente una squadra di categoria nettamente superiore in quel momento lì. Stavamo perdendo 3-0 il primo tempo, io e Asta in quel momento abbiamo deciso, sembrerà un controsenso, forse non si deve neanche dire in televisione, però avevamo quasi paura di come potesse finire la partita e ci siamo messi a 5. In quel momento non ci siamo messi a 5, sembrerà strano un controsenso ma per difendere il 3-0. Da quel momento abbiamo detto aspetta un attimo, ragioniamoci un attimo, guardiamo le caratteristiche veramente dei nostri difensori quali sono, di fatti mi sembra che adesso con la difesa 3 con Speranza, Caidi e l'inserimento di Sales mi sembra che la squadra abbia più equilibrio. Io non avevo nessuna intenzione di venire a Teramo, non volevo venire, uno perché è lontano da casa mia e poi volevo fare altre esperienze, altre avventure. Poi mi sono lasciato convincere, riconvincere secondo me di seguito da Asta a venire e devo essere sincero adesso mi trovo veramente bene. Vivo in un posto bellissimo, Roseto, che è un posto fantastico secondo me e poi a me fuori casa è normale ma quando gioco in casa lo sento proprio la gente, mi piace, veramente è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Giornata speciale, quella odierna per l'Avezzano Calcio, una delegazione del sodalizio bianco verde è stata ricevuta questa mattina da Papa Francesco in udienza a Piazza San Pietro. A rappresentare l'Avezzano sono stati il presidente Gianni Paris, il direttore sportivo Filippo Marracutrupi, il direttore generale Carlo Iacoviti e l'allenatore Federico Giampaolo. La società marsicana ha consegnato al Pontefice una maglia con la scritta durata Francesco, la state vedendo in questo istante, una sciarpa, un gagliardetto e un pallone autografato. Una mattinata emozionante che si inserisce in un momento che anche sportivamente sta regalando grandi soddisfazioni all'Avezzano che dopo un brutto inizio di stagione ha infilato nove risultati utili consecutivi, istandosi al quarto posto in classifica domenica trasferta sul campo della Re Canatese. Andiamo avanti, altra giornata particolare per un'altra formazione di Serie D, si tratta del Francavilla. Questa mattina allo stadio Valle Anzuca c'è stata una visita di prestigio, quella di Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale ed attuale responsabile designatore del Can A. Rizzoli ha ritrovato il suo amico ed ex collega Francesco De Luca, attuale team manager del Francavilla. Nell'occasione l'ex arbitro ha voluto incontrare i giocatori, tutto lo staff tecnico e dirigenziale per conoscere approfonditamente la realtà giallorossa. Nella foto che vedete Nicola Rizzoli è con il presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro. Francavilla che dopo il blitz di Iesi prepara il derby casalingo di domenica prossima contro la Vastese e per l'occasione indetta la giornata giallorossa. Il TG6 grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.